Ciao Albertino, ciao Alberto, ciao, ciao, piacere, io sono Paolo, io sono Fabio Alisei, piacere, ciao Fabio, ciao, io sono Wender, ciao Wender, come va ragazzi? Beh, tutto a posto, senti, noi fondamentalmente siamo qua, non so se tutti lo sanno, lavoravamo in un'altra radio fino a qualche tempo fa, diciamo prima di Capodanno, sì, sì, ma infatti, adesso siamo venuti qua, abbiamo fatto un programmino televisivo, non so se l'hai visto, quello che a tutti non piace fondamentalmente, no, a me piace, io l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, Sì, ti piace? Cistifonzi? Sì, quello di Cistifonzi, quello lì, sì, l'ho visto, mi piace, però, insomma, fondamentalmente noi siamo qua, perché, scusa, posso chiedere una cosa a Wender? Ma certamente, hai fatto la cacca? Sì, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, ti premeva a saperlo e anche lui premeva a farlo, ecco, noi siamo qua giustamente anche un po' per chiederti scusa, sai che ti facevo più magro di persona? Scusa, no, ma questo è il lato grasso, io ho il lato destro che è magro, capito, però sicuramente, lui ha un lato in ombra come la luna e anche alcuni crateri sulla faccia, ma non vogliamo approfondire il motivo, Quindi diciamo che voi siete qui sulla scia del karma? Siamo sull'aria anche noi con il karma, abbiamo sposato questa filosofia che tu hai giustamente inaugurato Bella, mi piace Bella idea poi Noi ti abbiamo fatto, diciamo, una riga di carognate mentre eravamo nell'altra radia Qualcuno me l'ha detto Invece voi non sei così vecchio visto dal vivo, cioè qualche cappello nero ancora Cioè io non penso che tu sia una carogna Beh, anagraficamente sì, io sono una carogna Cos'ho detto io? No, tu pensi che io sia una carogna? No, dico no, penso che tu non sia una carogna Ah, ok, grazie Cioè poi anche dal vivo non sei così basso come sembravi nelle foto, cioè sei anche slanciato Cioè mi arrivi alla spalla Quindi siamo alla fine, siamo tuoi ospiti, diciamo Cioè ma in pratica voi vorreste cancellare tutte le... Sì, allora noi avevamo fatto una lista, poi Paolo ci si è soffiato il naso e quindi andiamo un po' a memoria Non è proprio mia, è la rinite No, ma voi sapete come funziona sta roba, no? Sì, sì Si fa la lista Sì, abbiamo fatto... Io sono contento di essere il primo della vostra lista No, ti abbiamo messo come numero uno perché è un abbondante carta di culo Ah, sì, siete delle merde Il secondo è il latte scremato Ok, ok E quindi grazie O in ordine alfabetico, anche ci sta A, quindi va bene E per cui vorreste cancellarmi dalla lista? Sì, se tu ci perdoni per tutto quello che abbiamo detto Di cui tra l'altro tu non sai forse tutto Perché se ci perdoni sulla fiducia è meglio La fiducia è che vi perdono anche perché io, voglio dire, io sono per la pace Sì, noi siamo anche per il piace, peace Nel love No, ma voi siete venuti solo per dire questa cosa oppure... Ecco, adesso questo si scoprirà con calma, cioè un attimo di... Ma perché scusate, io dico una roba, no? Siete qua Sì Io vi cancello dalla lista Sì A me delle robe del passato... Bravo Anche perché... Dirò una frase di Fabri Fibra Sì Lo spettacolo è finto di brutto Hanno tutti capito il trucco Tranne te Posso dire io una frase di Masini? Prego Lascia stare No Vabbè, quindi io vi cancello Ma scusatene, ma perché non vi fermate... Possiamo? Ma un anno, due Un anno, due Un anno, due È il terzo che faccio, ricordo rapid È il terzo... Io non do garanzie Dovete parlare con l'altro della famiglia Quello che avete insultato più di me Ah Sai che sentite in onda questa roba Non sembra neanche tanto preparato Ma fermatemi... Possiamo Allora, questa è la sala Tu dove vuoi dormire? Allora, io mi voglio smaliziare adesso subito Sì, prego Cioè, proprio in onda Mi voglio smaliziare Voglio perdere la tensione Sì, di Radio DJ Volevo dire... Radio DJ, One Nation, One Station Vai Minchia mamma, sono a Radio DJ È vero! Beh, forza Forza Tu, altri libidini Io posso stare nella stanza dove hai i dischi Con le robe lì? Sì, camera mia Sì, archivione Va bene, archivione Tu Fabio, dove vuoi stare? Io voglio stare a Radio DJ Eh, vabbè Ma smettete di fare il porno dico Posso, posso Per una roba? Radio DJ, One Nation, One Station Bella